Oggi la Valfreddana è più sicura rispetto al passato, anche dal punto di vista idrogeologico, grazie soprattutto alle risorse europee e regionali intercettate dal Consorzio di Bonifica 1 Toscana Nord. È stato questo il tema principale trattato nel corso dell'incontro che si è tenuto a Monsagrati e al quale hanno partecipato l'assessore regionale Marco Remaschi, il sindaco di Pescaglia Andrea Bonfanti, oltre al presidente del Consorzio, Smele Ridolfi. All'incontro erano presenti anche rappresentanti dei comuni di Lucca e Camaiore, oltre a vari professionisti, cittadini e rappresentanti di comitati locali, che per conto del Consorzio di Bonifica svolgono il ruolo di sentinelle del territorio. Il giudizio è senz'altro positivo, perché almeno i lavori sono stati fatti, anche se c'è sempre qualche cosa da ritoccare, ma naturalmente siamo in corso d'opera. Si spera quindi col proseguimento del PSR, che dovrebbe arrivare fino al 2020, vengano completati i lavori. L'incontro organizzato in Valfreddana assume un'importanza particolare, visto cosa accade in queste zone, nel 2014. L'incontro stamattina in Valfreddana ha un duplice significato. Da un lato abbiamo fatto il punto rispetto alla ricostruzione, cioè dopo l'evento tragico, molto forte, insomma, del 2014, dove tutta la vallata fu devastata da un evento alluvionale, abbiamo fatto il punto sia sulla ricostruzione, sia delle misure per la messa in sicurezza e quindi per la prevenzione futura. Siamo riusciti a fare buone progettazioni con il Consorzio di Bonifica, con l'Unione dei Comuni, facendo sinergia fra i vari enti. La progettazione è stata finanziata e abbiamo fatto nel giro di pochi anni una serie di interventi che hanno reso quel territorio più sicuro. La riunione di martedì è stata l'occasione di ricordare quanto questi PSR stanno riportando sul territorio di competenza del Consorzio Sicurezza e Bellezza, ma anche Economia, in quanto grazie a questi sono stati coinvolti 129 tecnici tra geometri, architetti e ingegneri, 56 le ditte che stanno operando sul territorio, impegnate in poco meno di 100 cantieri.